Manca sempre meno al 20 giugno, l'inizio dell'estate 2024, una stagione importante per il turismo che però a Pesaro preoccupa tanti albergatori. Durante il weekend l'Associazione Pesarese Albergatori ha presentato un documento indirizzato al futuro sindaco di Pesaro, con all'interno richieste urgenti e proposte per la stagione estiva 2024. Un aperto ad esempio è l'arredo della zona mare, soprattutto nella zona di Levante, che ad oggi è completamente disadorna, così come Rocca Costanza per quanto riguarda la manutenzione dell'erba e Piazzale Matteotti. Altri temi importanti che sono da affrontare sono quelli della quiete e della sicurezza nella zona mare, tema che poi affronteremo nei prossimi mesi sicuramente. Anche qui noi l'anno scorso avevamo chiesto al Comune di non fare le aperture oltre alla mezzanotte, le ultime ordinanze sono invece in linea con gli anni passati. Tante incognite anche su Pesaro Capitale Italiana della Cultura, una grande opportunità per il turismo che può essere sfruttata, commenta l'Associazione Pesarese Albergatori, solo se si applica a una programmazione puntuale comunicabile degli eventi. Altra cosa che ci preme è la programmazione di Pesaro 24 che ad oggi manca è di una programmazione operativa comunicabile ai turisti che ci vengono a visitare. Quindi tutte queste cose sommate tra di loro ci ha portati a questo appuntamento di oggi e anche siccome l'estate non finisce a giugno ma anzi inizia ad avanzare delle proposte anche ai candidati sindaci e proprio ne vogliamo approfittare anche per invitarli ad un confronto nelle prossime occasioni. Grazie a tutti.